Benvenuti in un nuovo video aracnofili, oggi parleremo di uno spiderco veramente strano, lo spiderco kiwi. Per la precisione qui davanti io oggi vi parlerò non soltanto del C178 che è il kiwi 4, ma anche di come è nato il kiwi, cioè del primo kiwi, il kiwi C75, e poi passeremo anche a parlare di questo nuovo kiwi della quarta generazione appunto. Per iniziare volevo parlarvi di alcune curiosità del kiwi. Che cos'è il kiwi? Il kiwi non so se l'avete mai sentito, non è solo un frutto ma è anche un uccello, del genere Apteryx. Praticamente gli Apteryx, che poi deriva dal latino e capiremo poi cosa vuol dire, è un genere di uccelli inadatti al volo, comunemente noti come kiwi, oppure chiamati anche in italiano Atteryx. Sono endemici della Nuova Zelanda e ne sono anche il simbolo nazionale. Il nome scientifico proviene dal greco e significa privo di ali, quindi senza ali, a privativo, Pteryx sarebbero le ali praticamente. Kiwi, per chi non lo sapesse, è anche il nome ovviamente del frutto, dell'actinidia chinensis. Questa pianta, che è poi originale della Cina, fu introdotta all'inizio del XX secolo in Nuova Zelanda, dove per la somiglianza venne spontaneo soprannominare questa bacca munita di buccia marroncina e pelosa, col nome di questi piccoli uccelli caratteristici della regione. Dalla Nuova Zelanda, che poi è la terza principale produttrice di kiwi, addirittura dopo la Cina, è l'Italia, ascoltate bene, quindi siamo i secondi produttori al mondo di kiwi, la coltivazione della pianta si è poi diffusa in tutto il mondo, portando con sé il nomignolo neozelandese di kiwi. Quindi i kiwi è il nomignolo con cui nei paesi di lingua anglosassone sono spesso chiamati i neozelandesi in generale, perché appunto c'è questo piccolo uccello che viene chiamato kiwi. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché io penso che i knife maker del kiwi si siano proprio ispirati a questo particolare uccello. Come potete vedere, in effetti, lo spiderco kiwi somiglia tantissimo all'uccello kiwi. Oggi la luce non riesco proprio a metterla in maniera decente per potervelo fare vedere bene. Provo a prenderlo. Eccolo qua. E come notate, lo spiderco somiglia proprio al becco, la lama dello spiderco somiglia al becco del kiwi. In aggiunta poi, considerando che sono animali, come abbiamo detto, privi di ali, i primi spiderco kiwi non avevano nemmeno la clip. Infatti hanno l'iniziale come cibo, lo vedremo, ne parleremo. Ma non avevano nemmeno la clip. E che poi è stata aggiunta successivamente sui modelli, sulle generazioni successive. Andiamo a parlare appunto del kiwi. Il kiwi C75 è un modello spiderco di produzione regolare, destinato a fare gola a coloro che preferiscono l'aspetto più tradizionale di un coltello tascabile slip joint, ma desiderano quella comodità dell'apertura con una sola mano e la maggiore sicurezza della chiusura lock. Sebbene i suoi numeri di modello portino un prefisso C, che sarebbe la C l'iniziale di Clipit, manca la clip comune a quasi tutti gli altri modelli con quella designazione. Manca anche la gobba della lama, comune alla maggior parte dei modelli tipici di spiderco. Invece, l'apri spiderall è presente, quindi il foro, è presente all'interno della lama del modello Warcliffe modificata, lama piuttosto stretta. È stato offerto in due formati di base, la costruzione con manicature e imbottiture anteriori e posteriori introdotta nel 2002, e quello tutto in acciaio inossidabile che è stato aggiunto nel 2003. Come il primo modello di spiderco, il C01 Worker e molti altri modelli negli anni a seguire, il Kiwi incorpora un front lock in stile Marr Macburet. Le seguenti informazioni invece che vi vado a dire sono state trasposte dal catalogo web di Spiderco e sono specificatamente tradotte dalla pagina che mostra la prima versione del Kiwi ad essere rilasciata. Quindi decine di utilizzatori di coltelli ci hanno chiesto perché Spiderco non crea un folder convenzionale come un vecchio coltello a serramanico o un coltellino. Eccolo qua, la nostra offerta, influenzata dalla tradizione, è il Kiwi e riflette le caratteristiche che si trovano sul Whittler, lo chiamano in americano, che vuol dire il coltellino del nonno, preferito del nonno, pur rimanendo fedele a Spiderco per i materiali e l'ergonomia high-tech. La sua lama VG10 da 2 pollici ha un profilo Warncliffe e una gobba pronunciata, creata per ospitare lo Spiderco Round Doll. La posizione del foro sulla lama è importante, soprattutto per i coltelli più piccoli, per trovare il punto con la rotazione del perno più comoda, o comunque più naturale, quando si apre con una sola mano. Il doppio finger choice sul ventre dell'impugnatura alloggiano all'indice e il medio, in un allineamento per un controllo ottimale. Le guancette di jig bone, color ambra, poste accanto ai supporti in acciaio inossidabili, ricordano i coltelli più tradizionali. Alla maniera di un vero folder da gentiluomini è senza clip. La gobba ovviamente a cui si fa riferimento nel catalogo sarebbe più precisamente chiamata fronte in inglese. Questo invece che abbiamo di fronte qui oggi è il modello C178, o chiamato Kiwi 4. È la quarta generazione del C75. Infatti andiamo a vedere, è sempre in VG10, prodotta in Giappone. Qui abbiamo la firma di Sal, Classer, ed è in G10. Vi faccio vedere tutto. Ovviamente vedrete anche la mia lesione sull'unghia. E niente, quindi questo è lo Spyderco Kiwi. E andiamo a leggere dello Spyderco C178. Il Kiwi è uno dei coltelli più unici e duraturi della linea dei prodotti Spyderco. Originariamente rilasciato nel 2002, il Kiwi è stato prodotto in diverse varianti. Praticamente tutte della stessa dimensione. Il Kiwi 4 adotta la comprovata ergonomia e prestazioni di taglio del design originale e le amplifica, aumentando la scala del coltello di circa il 20%. Aggiunge anche la manicatura in G10, a tutta lunghezza, full flat grind e per la prima volta una clip da tasca. La vediamo dall'altro lato una clip a filo. Il Kiwi 4 è dotato di una lama in acciaio inossidabile WG10. Il suo profilo Whorcliffe presenta un bordo perfettamente dritto, per una potenza di taglio e destrezza impressionanti. E il trademark round hole di Spyderco offre una comoda apertura con una sola mano, con entrambi le mani. Li vedete? Si apre abbastanza facilmente. Il suo manico ha dei liner scheletrati in acciaio. Vi ho fatti vedere prima con lo zoom. Si vedono proprio all'interno. Non so se li vedete. Sono comunque forati in maniera tale da alleggerire il Kiwi. e quindi abbiamo detto che ha dei liners scheletrati in acciaio inossidabile stratificati ovviamente con manicatura in G10 nera testurizzata. Insieme alla caratteristica doppia finger soil del coltello, una e due, questa costruzione offre una presa estremamente sicura e un controllo eccezionale durante l'uso. Quindi un po' più avanti, un po' più dietro per tagliare. Vedete? C'è anche la posizione più arretrata. Così. E anche sede di un robusto meccanismo di blocco e di una clip, come abbiamo detto prima, una clip reversibile a tasca profonda, ovviamente che fa sparire il coltello in tasca, perché la tasca praticamente arriva qui e fa sporgere solo questa parte del Kiwi, del manico, e ovviamente il trasporto è ribaltabile destra e sinistra, quindi sia da questo lato, scusate non mettevo a fuoco, e sia da questo. Che dire ragazzi? Lui era il Kiwi. Molto probabilmente è stato ispirato appunto dallo stesso uccello Kiwi, dal becco dell'uccello, e infatti è molto simile, se lo guardate sembra proprio avere l'occhio e il becco appuntito. È un coltello molto particolare, strano, lo volevo in collezione, e adesso ce l'ho qui, sono riuscito a trovarlo. E niente, un coltello particolare, di cui vi vorrevo raccontare una piccola storia. Questo è il Kiwi, entrato appunto di diritto nella mia collezione. Un caro saluto, con l'ultima, diciamo, inquadratura. Un saluto dal vostro Doc, mettete mi piace, commentate, e ci rivediamo in un prossimo video con le nuove storie dei fantastici coltelli Spyderco.